La famiglia Lombardi è sempre più protagonista del web. Arovetto e John, con l'ausilio dei loro familiari, continuano a spopolare con video di giochi ed esercizi fatti tra le mura amiche, con una rubrica ribattezzata «Tutto fatto in casa», un modo per trascorrere questo periodo di pandemia senza restare fermi. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS